Torna protagonista sinfonica la stagione invernale organizzata dalla Fondazione Teatro della Fortuna e dall'Orchestra Sinfonica Rossini in collaborazione con il Comune di Fano, una stagione che vanta anche il sostegno dell'Assessorato alla Cultura della Regione e del Ministero della Cultura, della Banca di Credito Cooperativo di Fano, della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano e di Aset. Su questo palcoscenico verrà ospitato il primo concerto 2023 che brinderà al nuovo anno insieme al suo direttore artistico, il maestro Daniele Agiman. Domenica 1 gennaio alle ore 17 il sipario si aprirà con le notte del fiabesco sogno di una notte di mezza estate di Felix Mendelssohn ispirato a Shakespeare, tra le cui pagine si trova una delle più famose marce nuziali. Ma non solo grande repertorio sinfonico, la voce del soprano Giuseppina Piunti rievocherà la passione della Carmen, la dolce tortura e le spume gianti melodie da una selezione di operette di Jacques Offenbach. Si parte dal primo di gennaio, è un appuntamento che tutta la città aspetta e non solo la città, questo rapporto consolidato ormai non solo di lavoro ma anche di qualità con l'orchestra sinfonica Rossini. Primo di gennaio, pomeriggio, auguriamo a tutti un buon 2023 e la stagione poi prosegue con altri due appuntamenti. Il 17 di febbraio, un omaggio anche al carnevale, grande spettacolo per ricordare Pink Floyd in 50 anni. E poi invece a marzo un momento particolare di un concerto che viene fatto con il primo violino dell'Orchestra Nazionale Santa Sicilia, per cui un rapporto che apriamo con le grandi orchestre del nostro paese. La mattina per le scuole, iniziamo questo rapporto particolare che devo dire soddisfazione dà perché all'anteprima giovani di Macbeth abbiamo avuto 400 studenti presenti e lo riproponiamo anche per la sinfonica e poi la sera del 31 per tutti i cittadini, per tutti coloro che verranno con noi a ascoltare della bellissima musica. Grazie